wow ma che top ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video signori questo scatolone qua davanti a me è il Tutris TS3 che ha anche una scatola più bella con tanto di loghi e segnini ma pesa talmente tanto che non ha senso toglierlo, non ha senso togliere la scatola interna dalla scatola esterna, togliamo direttamente il macchinario che è tadaaa un laserone tutto chiuso, tutto chiuso vuol dire zero odori, zero fumi perché saranno filtrati e barra o inseriti all'interno di un tubo che potremo attaccare sul retro, manuale di istruzioni un foglio di domande e risposte un altro foglio che spiega come montare il pannello posteriore per attaccarci un tubo esterno di aspirazione magari buttare i fumi direttamente fuori dalla finestra oppure se avete dei macchinari filtranti o non so comunque packaging su misura, sagomato e tiriamo fuori la nostra bestiola allora facciamo un velocissimo tour il lato anteriore e il lato superiore sono quasi privi di ogni tipo di controllo pulsante ma ospitano questo gigantesco coperchio che si apre in questa maniera adesso vedremo, piccolo display, touch verticale qui il lato destro è il lato delle cose varie abbiamo il pulsante di accensione questa che sembra un allarme fuoco probabilmente una ventolina per raffreddare l'elettronica scheda micro sd, usb per il computer e alimentazione lato sinistro invece totalmente vuoto lato posteriore troviamo questo pannello che come vedete si può facilmente togliere qui sono alloggiate le ventole di aspirazione della camera interna e sostituendo questo pannello invece che il filtro si può collegare direttamente un tubo quindi invece che filtrare i fumi le butti direttamente fuori dalla stanza come vi dicevo prima e inoltre qua abbiamo l'importantissimo selettore selettore di modalità perché questo laser è molto interessante perché ha l'asse Y sia lineare cioè sia può andare in maniera cartesiana a incidere un qualcosa di piano su asse X e Y sia vedremo all'asse rotante e quindi con il selettore qua dietro possiamo scegliere se usare la baracca in versione cartesiana o in versione rotante perché ci saranno i rulli nascosti ma adesso vi mostro tutto apriamo la calottina opla, spellicoliamo allora nel frattempo ne approfitto per dire che sono consapevole che qualche altro recensore ha trovato un po' di problemi con questa macchina problemi principalmente di cose che non gli funzionavano per questioni di firmware adesso vedremo se era solo un caso isolato e se a me le cose funzionano oppure se per me sarà lo stesso ma ne approfitto intanto per farvi notare come tutto il bordo della cupola sia teloso per evitare fuoriuscita di polveri o di qualsiasi cosa bellissimo allora nella parte interiore troviamo questo pacco troviamo del sottile compensato che possiamo provare a tagliare come un test no non è neanche compensato è MDF troviamo un nido d'ape che sarà quello su cui lasereremo i nostri pezzi il nido d'ape è molto molto importante dopo vi spiego quali sono i vantaggi infatti per i miei altri laser ho comprato poi un nido d'ape a parte e ho tolto il nido d'ape non solo per mostrarvi quanto sia figo ma per mostrarvi subitissimo che rimuovendo il nido d'ape dalla macchina e sbrugolate un paio di viti troviamo qua sotto al pianale la sorpresa quello che vi avevo detto prima l'asse rotativo questi sono rulli su cui si può appoggiare un termos una bottiglia un bicchiere un qualcosa e incidere con il nostro laser cose cilindriche tonde ed è fighissimo avere l'asse rotativo già integrato nella macchina a portata di uno switch faccio così e funzionano i rulli faccio cos'ha e funzionano gli assi X e Y per fare cose piatte molto molto figo opla così come figo è questo imponente sistema di filtraggio delle polveri sottili sul retro non so di primo acchito mi sembra carina qui c'è il laser 10 watt ma vediamo molto molto velocemente cosa ci danno nei sacchetti di accessori accessori ah ok il famoso tubo del diametro giusto da attaccare qua dietro per portare i fumi fuori dalla finestra ah vabbè chiaramente gli accessori quindi alimentatore 24 volt 4 ampere il suo cavo uh bello l'attacco per il tubo la bocchetta in acciaio non in plastica cavetto usb per la connessione al computer un cilindretto di alluminio per mettere a fuoco in maniera semplice il laser anzi c'è il cilindretto principale più 3 piccoli spessori aggiuntivi in modo da poter scegliere lo spessore totale a seconda di cosa dobbiamo fare se dobbiamo solo incidere quindi il laser non dovrà andare in profondità immagino li metteremo tutti se dobbiamo tagliare invece e quindi il punto di messa a fuoco serve che sia un pelo più spostato in avanti perché ho visto questa macchina tagliare fino a un centimetro di compensato e chiaramente lasceremo solo il cilindro principale in modo che il laser sia un po' più in giù e in modo che la messa a fuoco sia un po' più spostata verso il basso e che tagli meglio e in ultimo un paio di occhiali dei quali vi consiglio assolutamente di non fidarvi non pensate che delle plastichine colorate di verde vi salvino gli occhi usate comunque il laser con la cupola arancione chiusa e a quel punto si verde più arancione è già una buona protezione più mille brugole mille fascette ad elettricista una chiave inglese che da micro sd adattatore usb classico ok allora io volevo incidere e tagliare assolutamente una cosa molto particolare adesso vi spiego poi il laser è una bomba di prodotto ma prima una parola sullo sponsor di questo video prima di passare al computer perché comunque se state guardando questo video siete quasi sicuramente dei makers gente a cui piace mettere le mani in pasta costruire cose creare inventare magari lo fate anche per lavoro magari siete parte di una start up una piccola azienda o fate dei piccoli progetti per l'università e in tal caso avrete sicuramente avuto bisogno di realizzare dei circuiti stampati per i vostri prodotti prototipi o progetti dei circuiti stampati delle pcb e qua viene in aiuto il nostro Altium lo standard industriale mondiale per il design delle pcb anche Apple lo usa o almeno lo usava negli ultimi dati che sono stati divulgati per disegnare pensate alle motherboard degli iPhone e dei Macbook e dei prodotti Apple le schede madri disegnate con Altium pensate quanto è lo standard pensate quanto è robusto potente super versatile piuttosto facile comunque come curva di apprendimento perché è abbastanza intelligente da mostrarti nell'interfaccia da porti in primo piano le cose che sa che più ti interessano in quel momento cioè l'interfaccia si adatta in base al contesto in base alle esigenze e quindi trovi quello che ti serve e quindi è più facile fare le cose ma poi puoi scendere nella tana del bianconiglio per sempre e imparare quello che è il software di disegno di pcb più potente con ispezione tridimensionale del tuo circuito dei fuori passanti dei vari layer puoi guardarti attorno puoi fare analisi delle frequenze delle interferenze elettromagnetiche puoi disegnare pcb flessibili poi di tutto cioè tutto quello che vi possa venire in mente Altium è lo standard allora per un privato costa sicuramente un po' il prezzo è più pensato per un'azienda anche piccola ma comunque con un suo budget che può permettersi software professionali ma con il link in descrizione ci sono due settimane di prova gratuita per tutti quindi anche se sei lo studente del liceo che deve fare il progettino estivo e hai bisogno di una pcb puoi permettertelo per disegnare tutte le pcb che vuoi perché è gratis per due settimane o se sei un'azienda e vuoi implementarlo vedere se i dipendenti si trovano se ci si orientano se riescono ad essere produttivi che ne so oppure se il software rispecchia le esigenze di design che avete la prova gratuita è top per tutti quindi link in descrizione ad Altium e noi passiamo al computer per il progetto che non avrei dovuto mostrarvi allora eccoci al computer questo è quello che volevo incidere tra l'altro ho trovato su Thingiverse per Natale ho regalato ai miei genitori e mio fratello un gioco a tavolo molto interessante si chiama Terraforming Mars che ha il piccolo difetto di avere questi piccoli tabelloni per ogni giocatore che sono fatti tipo di carta secondo me si rovinano tantissimo e quindi perché non farli di legno di compensato non so a me piace un sacco questo design ce n'era anche un altro un po' innovativo un po' troppo innovativo per i miei gusti quindi resterò su questo vedete che ho già aperto Lightburn il software che andrò a utilizzare per fare questo incisione e taglio bisogna usare per forza Lightburn mi dispiace Lightburn è un software a pagamento ma ti dà tipo sette giorni di prova gratuita purtroppo per riuscire a fare nello stesso lavoro nello stesso job sia taglio che incisione l'unica è usare Lightburn perché LaserJRBL è l'alternativa gratuita non mi sembra possa fare diverse parti dello stesso file con diverse potenze ma prima di dedicarci a fare questo io volevo un attimo mostrarvi il contenuto della nostra scheda microSD perché ci sono molte cose interessanti allora a parte questi gcode che vanno eseguiti nel momento in cui si vuole switchare tra l'uso dell'asse Y e l'uso dell'asse rotativo quindi oltre a commutare l'interruttore che troviamo sul ruolo della macchina bisogna eseguire dalla macchina stessa quindi chiaramente con la scheda SD inserita il file corrispondente che così va a settare le varie impostazioni e insomma fa tutto da solo poi c'è un piccolo test che ci stampa un QR code delle cose magari adesso lo proviamo anche e poi però dentro questa directory c'è di tutto ragazzi guardate il manuale delle istruzioni a mio avviso fatto piuttosto bene c'è qualche traduzione che non è accuratissima ma è tutto piuttosto comprensibile soprattutto vi dà lo spessore dei vari blocchetti di alluminio per ogni spessore di compensato che andate a tagliare tutto come si usa l'interfaccia tutte le impostazioni per laser grbl e più avanti tutte le impostazioni per lightburn le ho viste eccolo qua mi dà il metodo di connessione con il computer nelle varie cartelle qua c'erano anche i driver da installare se siete su windows ci sono tutti i tipi di materiale con velocità e potenza per ciascuno sono un po' scarse queste potenze ho visto da altre recensioni che bisogna stare un pelo più lenti rispetto a quello che dicono i cinesi però ehi ci danno già tutte le tabelline fatte molto molto carino c'è un'applicazione per android questa è super interessante esiste chiaramente anche per ios e in più oltre all'app abbiamo anche l'interfaccia web carine non utilissime nel senso che purtroppo la macchina ogni volta che la spegniamo e la riaccendiamo perde la password del wifi quindi bisogna riconnetterla a mano non è un processo comodissimo e poi alla fine quando mai ti serve un'interfaccia web per un laser devi essere comunque lì di persona mettere i pezzi di legno togliere i pezzi di legno e se sei lì di persona se sei nelle vicinanze il computer lo colleghi con il cavo usb ah qui mi spiega anche tutta la questione a se rotondo diciamo cioè come togliere la piattaforma di alluminio come liberare i rulli mi spiega l'utilizzo dell'interruttore qua sul retro ci sono dei file di test ah giusto da usare come backup sono quelli che troviamo anche nella home in più le immagini ah no ok delle immagini che possiamo provare a incidere l'applicazione da installare già il software sia Lightborn sia LaserGRBL questo è interessante nel caso in cui non abbiate internet immagino i driver che vi dicevo prima e più tutta una serie di istruzioni video proprio su come fare le cose che è proprio utile per visualizzare proprio come fare un qualcosa ah e dall'applicazione si possono incidere anche i disegnini molto bene questa qua era la parte di manualistica mi recupererai al volissimo Lightborn che ho già impostato per una macchina che ha superficie di incisione 300x300 vado a trascinare dentro il mio file purtroppo è doppio quindi devo fare un attimo una selezione e cancella hopla giusto giusto ah rispetto ai primissimi esemplari che avevano mandato di beta testing che so che davano un sacco di problemi perché per qualche ragione la macchina era stata pensata con l'origine degli assi in alto a sinistra un'origine non convenzionale adesso sugli esemplari in produzione l'origine è proprio standard in basso a sinistra quindi non c'è nessuna impostazione da modificare funziona tutto al primo colpo unica cosa è che io vorrei i miei numeri magari li mettiamo di un altro colore color verde assieme a un altro paio di cose tipo così e poi possiamo mettere che il verde è riempito hopla si è stammato anche questo poi cosa vogliamo fare allora per l'incisione del compensato sono 6000 mm al minuto al 50% mentre per tagliarlo 4 mm dovrebbero essere 500 mm al minuto con il 100% secondo me servono almeno un paio di passaggi a 300 mm al minuto e allora facciamo proprio così allora il nero sarà da incidere quindi 50% a 6000 mm al minuto 50% a 6000 anche per il verde che semplicemente è riempito mentre il rosso va fatto super lento al 100% con due passaggi a me così mi piace salva G-Code ti lo metto direttamente nella scheda SD tovellone salva ok allora accendiamo la macchina ho un microfono qua in mano perché vi avverto farà un po' di rumore allora in realtà la situazione migliora molto chiudendo perché con la scusa che c'è tipo il pelo su tutte quante le fessure oltre a bloccare la fuoriuscita di polveri anche per il suono fa molto però quando quando la si apre è rumorosetta ma non è rumorosa la macchina è rumoroso il sistema di filtraggio di aspirazione delle polveri in fondo allora compensato cartoncino quel che è prenderò le misure della distanza con il blocchetto srotello la rotella per farlo salire o scendere voilà dovrebbe essere a fuoco vogliamo controllare possiamo farlo adjustment 5% mi sembra a fuoco non fatelo senza gli occhiali perché 5% è già bello potente anzi guarda basta che chiudiamo mi sono reso conto che comincia già a incidere questo cartoncino a 5% di potenza però mi sembra bello che punti for perfetto ok ok allora primissima cosa da fare è control e poi premo h home quindi hard home boom e così capisce dove è il suo zero poi possiamo andare su incidi posso scegliere di vederne il frame uh perfetto con il laser al 5% me la mostra ok la proviamo lo premo avvia wow ok sembra precisissima nel laser io vedo come se lo spot del laser fosse tipo molto largo però poi la riga sul legno viene nitidissima vediamo se poi taglia anche sul rosso uh si sta tagliando uh è una bomba è una bomba questo qua con un solo passaggio ok per quanto riguarda le incisioni forse avrei dovuto fare leggermente più lento perché si vedono però avrei preferito un tratto un pelo più spesso ma per quanto riguarda il taglio ineccepibile e c'è quasi zero puzza qua fuori sistema di filtraggio super approvato e vi ricordo che non mi pagano in nessuna maniera nessuno questa cosa qua che lampeggia è l'allarme fiamma probabilmente il legno è lì lì per fare la fiammella ok ho dovuto abortire la stampa perché non l'avevo centrata giusta e mi è finita fuori dal bordo da incidere mazza guarda qua un solo passaggio quindi hanno praticamente ragione le istruzioni allora non ha tagliato proprio del tutto c'è ancora qualche punticino in cui il laser non era passato però questo qua è un solo passaggio vuol dire che con due passaggi questa qua sarebbe stato un taglio nettissimo e precisissimo ok fatemelo rifare ok tutto pronto avvia guardate come si vede il laser che va a fuoco proprio di forma conica wow ma che top allora sarà una mia impressione ma il filtro in cotone c'è più scuro dell'inizio va meglio che lo sia lui e non i miei polmoni sicuramente guardalo guardalo come si sta vabbè mai avuto un laser che taglia così bene ma che roba come da manuale come dovrebbero essere i laser ok secondo file questa con la mascherina sopra io vedo che i cosi cadono da soli quindi ci va un po' di lusso ah guardali qua che bello che piacevole ok sono 4 mm non è un centimetro però non l'avevo mai fatto così senza problemi ok incisione numero 2 finita i quadratini sono quasi tutti staccati e quelli che non sono staccati si staccano vedo già con la pressione del dito il filtro è decisamente scurito dai fumi ma il cotone si lava o se non si lava si esattituisce comunque ripeto meglio che sia scuro lui che non i miei polmoni buah e questo è il risultato finale che bomba ma che soddisfazione è il taglio laser allora questa qua è la mascherina di sopra guardate la precisione ho usato giusto un trucco come post processing nel senso che per rimuovere al massimo l'ingiallimento ho semplicemente lavato proprio il pezzo con acqua sotto il rubinetto poi l'ho lasciato però tutta la notte ben pressato con del peso sopra perché se no ci sarebbe tutto sollevato chiaramente il compensato bagnato e quindi con questa che è la parte posteriore e questo che va ad attaccarsi qui forse sarebbe stato meglio compensato da 3 mm invece che da 4 un pelo più sottile perché effettivamente sono un po' profondi ma giusto una goccia di vinavil e ragazzi ho fatto un oggetto tridimensionale utile cioè è bellissimo perché non solo è la prima volta che qua nei video vi faccio un progetto di taglio laser che funzioni a primo colpo ma anche ho fatto un oggetto utile adesso ne faccio altri 4 e dopo li userò per veramente il gioco da tavolo adesso non l'ho ancora incollato quindi lo terrò fermo qua con il dito ma guarda che bello guarda che oggetto completo quasi bello come il pollice in su che metterete a questo video se il video vi è piaciuto allora ricapitolando per questa macchina punti di forza vabbè l'essere chiusa punto di forza incredibile l'essere chiusa il contenere i fumi lo schifo i vapori avere il sistema di filtraggio tutta quella roba sulle CNC laser aperte non ce l'hai e l'altra questione è il l'asse Z l'asse rotativo che è già incluso e normalmente invece ti paghi un 100-150 euro a parte e fidatevi quando ce l'avete quello lo usate lo usate tanto ci fai anche i rotoli discotex tutti incisi con i rigori cioè non sarebbe forza incidere bicchieri tutto il giorno il nido d'ape ben distanziato dal piano di sotto in modo che se il laser passa o meglio quando passa perché è fatto per passare il laser ma quando passa non va a rovinare la macchina stessa anzi ha tutto lo sfogo possibile per scaricare sia i fumi sia andare fuori fuoco il laser così non fa danni secondo me è una macchina pensata bene ha avuto sicuramente problemi nella fase di kickstart nelle versioni beta che hanno mandato qualche recensore ho visto anche recensioni un po' superficiali se devo essere sincero perché per certe cose basta leggere i manuali di istruzioni però vabbè sistemati quei problemi tipo l'asse z tipo l'origine degli assi che è qua e non qui e un paio di cosettine mi piacerebbe solo che conservasse la password del wifi quando la spegni per questo video è tutto pollice in su ciao a tutti di... Grazie.